buongiorno ben ritrovati a voi tutti cari amici dal vostro nicole de lucia e direi a questo punto possiamo chiamarla anche deluxe television no a parte gli scherzi questo nuovo video parliamo dei pronostici di nxt the cover portland evento speciale pay per view dal terzo brand ww che andrà in onda nella notte tra domenica 16 lunedì 17 febbraio da portland oregon al moda center allora i match annunciati sono al momento 6 iniziamo con ria rible vs bianca belair sfida per il massimo titolo femminile di nxt contesa molto interessante però secondo me c'è sicuramente sì per il fatto che comunque ria rible anche in rivalità con charlotte fa pensare ad una vittoria assicurata della rible ma io dico che sarà combattuto il match e vinto della rible poi altro match molto atteso fin velo verso johnny gargano beh io dico che un po mi sbilancio dico johnny gargano anche se sono stato da sempre un fan di fin velo comunque se ne se le daranno di santa ragione questi due poi match per i titoli di coppia di nxt l undisputed dira bobby fish e kyle o'rally contro i brosher west matt riddle e pete danno io ma forse non sarà facile strappare le cindura lundis più di dio ma prova a dire brosher ways adam cole vs tommaso ciampa match singolo valdo per il titolo di nxt massimo detenuto da adam cole io qui non direi che è l'unica sfida tra i due ma secondo me andrà a finire anche ad aprile questa sfida quindi dico una difesa titolata con successo di adam cole poi da kodakai contro tegan nox street fight ma io dico qui tegan nox è l'ultimo match kate lee contro dominic da giacovic per il titolo nord americano di nxt qui spero tanto che c'è una una bella bellissima contesa questi sono due atleti mastodontici io dico kate lee comunque evento speciali che avrà il suo pre show a mezzanotte e mezza in diretta gratuita sul pro sul canale youtube della wwe e dalla un in diretti in esclusiva esclusivamente scusate il gioco di parole sul da wwe network in lingua originale e non so se c'è anche in spagnolo quindi ma io penso che come assoluto ogni evento speciale per video di nxt tech cover ci regalerà emozioni e chissà perché no anche qualche sorpresa salve a tutti ciao